E' arrivato GPT-4, vediamo quali sono le novità e alcuni trucchi per usarlo al massimo. OpenAI afferma che il nuovo modello alla base di ChatGPT è più sicuro del precedente, difficile da manipolare per fargli produrre contenuti sensibili o pericolosi, inoltre è anche più portato a dare risposte fattuali seppur la sua knowledge base è ancora ferma al 2021. La novità più rilevante è che il sistema è multimodale, questo vuol dire che ha la capacità di accettare come input non solo testo ma anche immagini, video, audio e produrre output solo testuali. Nella demo di lancio si è visto come il sistema è stato in grado di trasformare lo schizzo del layout di un sito web fatto su un tovagliolo di carta in un codice HTML funzionante. GPT-4 è anche molto più bravo del modello precedente a risolvere problemi matematici e logici e a scrivere codice software. Oggi vedremo alcune applicazioni invece al mondo del marketing e al mondo della creatività. Abbiamo detto che GPT-4 può ricevere come input delle immagini, questo è abbastanza semplice se utilizziamo le API di chat GPT, meno scontato se invece utilizziamo l'applicazione da web. Vediamo come farlo con un piccolo trucchetto. Andando sull'interfaccia di chat GPT vediamo subito che questa volta ci viene presentata la possibilità di scegliere il modello di linguaggio che vogliamo utilizzare. La opzione GPT-4 è disponibile soltanto per coloro che hanno comprato l'abbonamento Plus che costa 20 dollari al mese. E al momento ci segnala anche il sistema che il limite attuale per i messaggi è di 50 messaggi ogni 4 ore. Mettiamolo subito alla prova appunto sulla capacità di descrivere delle immagini. Prendiamo un'immagine dal web. Questa è un'immagine, una mia foto di Maratea. Prendiamo l'indirizzo della foto e utilizziamo una particolare sintassi per fargli digerire l'immagine. Quindi diciamo image from, due punti, indirizzo. Chiudiamo la parentesi quadra e proviamo a scrivere, descrivi brevemente quest'immagine. Vediamo cosa ci dice. L'immagine mostra una pittoresca piscina nascosta situata a Maratea, Italia. In questo caso ha letto probabilmente gli elementi nell'urla. La piscina è circondata da lussureggianti alberi e piante verdi che creano un'atmosfera tranquilla e rilassante. Le acque cristalline della piscina riflettono il cielo azzurro e le nuvole soffici, aggiungendo un senso di serenità al paesaggio. Alcune rocce naturali contornano il perimetro della piscina, conferendo un aspetto ancora più autentico e rustico. Questo angolo di paradiso sembra il luogo ideale per rilassarsi e godersi la bellezza della natura incontaminata. Quindi rende anche un po' poetica la descrizione, ma devo dire che effettivamente riesce a renderla al bene. Diamo ora in pasto invece un'immagine che riguarda degli elementi, degli ingredienti di cucina e proviamo sempre con il tipo di sintassi precedente a chiedergli per esempio cosa posso fare con questi ingredienti. Quindi qui cerchiamo di capire la sua capacità di capire l'immagine e poi anche di suggerirci cosa ci possiamo fare appunto con quegli elementi. L'immagine mostra diversi ingredienti tipici della cucina italiana, tra cui pasta, verdure e spezie. Con questi ingredienti è possibile preparare una deliziosa pasta primavera e con una ricetta semplice per realizzarla. Quindi ci dà proprio gli ingredienti di una ricetta e ci dà anche le istruzioni per completare poi tutta la ricetta. Va bene, direi che può bastare, ci è riuscito bene. L'altra cosa che si può fare è di dare l'immagine di un meme e poi di conseguenza dirgli che meme è questo. Vediamo se riesce. Questo è un meme popolare conosciuto come Spider-Man Pointing at Spider-Man o Two Spider-Man Pointing. Il meme rappresenta due personaggi identici di Spider-Man che si puntano l'un l'altro con sorpresa e perplessità. L'immagine è tratta da un episodio del cartone animato Spider-Man del 67 precisamente nell'episodio Double Identity. Il meme è diventato virale e viene spesso utilizzato per evidenziare situazioni in cui due persone o cose si assomigliano si comportano in modo simile mettendo in risalto l'ipocrisia, il doppio standard o l'ironia di una determinata situazione. Quindi ci è riuscito bene. Ho provato a testarlo anche su altri meme più nuovi e devo dire che non riesce sempre a indovinare però in questo caso ci è riuscito. L'altra novità di GPT-4 è che ha la possibilità di generare testi fino a 25.000 parole quindi molto più grandi rispetto alla precedente versione. Noi adesso proviamo a metterlo alla prova sulla generazione di testo a partire da un PDF quindi li diamo come nell'esempio precedente un URL da un sito web ma questa volta non è un'immagine ma un PDF io qui ho un PDF del World Economic Forum sul metaverso proviamo a fargli fare qualcosa con questo PDF e la sintassi questa volta a utilizzare è la seguente leggermente diversa da quella di prima parentesi quadra, text from, due punti indirizzo del PDF chiusa parentesi quadra e chiediamo riassumi in tre punti il documento a questo punto lui legge immediatamente il documento e ne fa un riassunto il documento del World Economic Forum si concentra sul concetto di metaverso sul suo impatto sul consumo riassumendo il documento in tre punti principali si può affermare che 1. definizione e panorama del metaverso il documento esplora la definizione del metaverso come insieme interconnesso di mondi virtuali ambienti digitali, spazi online che permettono agli utenti di interagire socializzare, lavorare e giocare il metaverso viene descritto come un'estensione del web attuale e il documento esamina le principali piattaforme e le tecnologie coinvolte corretto 2. impatto economico e opportunità di mercato ovvero il documento analizza l'impatto economico del metaverso e le opportunità di mercato emergenti in vari settori tra cui l'intrattenimento, e-commerce, pubblicità e formazione si discute anche di come il metaverso potrebbe influenzare il futuro del lavoro la proprietà intellettuale la monetizzazione dei contenuti digitali 3. sfide e implicazioni sociali il documento affronta le principali sfide e le implicazioni sociali del metaverso tra cui questioni relative alla sicurezza la privacy, l'uguaglianza digitale e l'inclusione viene anche esaminato l'aspetto normativo e si discute di come i governi, aziende e organizzazioni internazionali possano collaborare per promuovere un metaverso sicuro e sostenibile è perfetto, esatto quindi prova perfettamente riuscita proviamo ora a dargli invece in pasto qualcosa di diverso ovvero sia un mio blog post e io posso chiedergli di sempre con la stessa formula text from due punti url gli posso chiedere scrivi un tweet per il lancio di questo blog post e a questo punto lui dopo aver letto il blog post dovrebbe restituirmi ecco un tweet con tanto di emoji lo stato del Martek intervista a Scott Brinker è ora disponibile sul nostro blog scopri le ultime tendenze sfide e opportunità del mondo del marketing technology dal guru chief martek quindi riesce a individuare anche il nome twitter di Scott Brinker non perdere queste preziose intuizioni leggi ora con l'indirizzo e anche due hashtag quindi anche questa prova devo dire è riuscita da parte del nuovo modello GPT-4 un'altra delle capacità di GPT-4 è che sembra essere diventato più creativo rispetto ai precedenti modelli vediamo vediamo un po' mettiamola alla prova per esempio con la scrittura scrivi un tweet sull'intelligenza artificiale alla maniera di Dante Alighieri vediamo se ce la fa nel mezzo del cammin digitale l'intelligenza artificiale si innalza don di sapere guida celestiale che le umane menti abbraccia misteri e sorti d'algoritmi arcani insieme condividiamo questa danza lasciate ogni timor voi che entrate nel nuovo mondo di scienza e speranza hashtag Dante AI hashtag poesia tecnologica quindi anche con un po' di un pizzico di ironia che non guasta un altro test che potremmo fargli fare è di chiedergli di convertire converti in emoji il titolo del film travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di Lina Wirtmuller vediamo se ce la fa non è facile inizia a produrre degli delle emoji particolari e chiediamo spiegami il significato il titolo del film travolti da un insolito destino dell'azzurro mare d'agosto fa riflettere fa riferimento alla storia in cui i personaggi principali si ritrovano coinvolti in circostanze straordinarie inaspettate quindi mi spiega la trama del film però no allora diciamo spiegami l'uso che hai fatto delle emoji allora le emoji sono state scelte per rappresentare visivamente i concetti chiavi evocati dal titolo stesso ecco il significato dietro l'uso di ciascun emoji ecco e mi spiega che l'uragano rappresenta il travolti il personaggio che alza le mani il concetto di insolito destino suggerendo che i personaggi si trovano in circostanze strane o impreviste il vortice simboleggio il destino che avvolge i personaggi la palla di cristallo rappresenta il mistero e l'ignoto del destino quindi diciamo che se l'è cavata bene poi c'è l'onda che rappresenta il mare il mese di agosto con il sole il simbolo del colore azzurro riferendosi all'azzurro mare d'agosto e poi un tramonto che rappresenta tramonto che rappresenta l'ambientazione estiva e costiera del film bene un'altra cosa che li potremmo far fare vediamo se riesce a scrivere un tweet utilizzando solo emoji scrivi un tweet di lancio di gpt4 usando solo emoji ebbè abbastanza spiegami il significato di spiegami perché hai scelto ogni singola emoji ecco il significato dietro ogni singola emoji scelta vediamo uno rappresenta una celebrazione giusto due il robot rappresenta un robot quindi un'intelligenza artificiale che si ricollega direttamente al gpt4 ovvio tre abbiamo il simbolo del cervello che allude all'intelligenza la capacità di apprendimento la navicella spaziale che rappresenta il lancio l'inizio di qualcosa di nuovo ed emozionante e poi ci sono il mondo che rappresenta il world wide web o l'interconnessione globale suggerendo che il gpt4 può essere utilizzato in tutto il mondo in vari contesti online le stelline che rappresentano la novità l'innovazione e poi il fumetto il balloon che simboleggia la comunicazione e il linguaggio che sono elementi centrali nelle funzioni di gpt4 i libri rappresentano la conoscenza e l'istruzione evidenziando che il gpt4 è stato addestrato su un'enorme quantità di dati e può offrire intuizioni e informazioni utili beh questo è interessante il fuoco suggerisce l'entusiasmo l'energia che circonda il lancio di gpt4 indicando che è una tecnologia calda e trendy la lampadina la lampadina rappresenta idee e soluzioni evidenziando come gpt4 possa essere utilizzato per generare idee creative risolvere problemi 11 stellina simboleggia l'eccellenza e la qualità suggerendo che gpt4 è un prodotto notevole di alto livello 12 new rappresenta la novità e il rilascio di qualcosa di nuovo confermando che gpt4 è l'ultima versione del modello di generazione del linguaggio naturale l'obiettivo di questo tweet è di comunicare visivamente l'eccitazione le caratteristiche e le potenzialità di gpt4 utilizzando solo emoji pur mantenendo un senso di mistero e curiosità ottimo lavoro devo dire bene se fai qualche prova e scopri qualche prompt interessante per gpt4 fammelo sapere nei commenti e se ti va di rimanere aggiornato sui nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale generativa iscriviti al canale alla prossima